39. Contempla ciò dentro di te Cerchio K attraverso Marco, la via mistica, a cura di VB, Shankara Ciò che è di là dallo stato sociale, dal credo religioso, dalla famiglia, quel che è di là dal nome e dalla forma, dalle qualità, dal pregio e dal difetto, quello che è di là, dal luogo, dal tempo e dagli oggetti dei sensi, è Brahman e tu sei quello, contempla ciò dentro di te Questo Supremo che è di là dalla parola, ma entro la portata dell'occhio della pura illuminazione quel che è immacolata unità di coscienza senza inizio, è il reale Brahman E tu sei quello, contempla ciò dentro di te Ciò che non è toccato dalle sei onde, fame, sete, sofferenza, illusione, decrepitezza e morte Ciò su cui medita il cuore dello ioggi, ma che non può essere contemplato dagli organi sensori Ciò che l'intelletto non può conoscere, ciò che è senza macchia, è Brahman, e tu sei quello Contempla ciò dentro di te Ciò che è il sostrato del mondo e dei suoi vari aspetti illusori Che si sostiene da se stesso, che è distinto dal grossolano e dal sottile Che non ha parti e nessun paragone E Brahman, e tu sei quello, contempla ciò dentro di te Ciò che non ha nascita, crescita, evoluzione, declino, decrepitezza e morte Ciò che è indistruttibile, ciò che è causa di produzione, preservazione e dissoluzione dell'universo E Brahman, e tu sei quello, contempla ciò dentro di te Ciò che non ha differenziazione né perdita della sua intrinseca caratteristica Che è immobile come l'oceano senza onde Ciò che è eternamente libero ed omogeneo, è Brahman, e tu sei quello Contempla ciò dentro di te Ciò che, sebbene uno, è causa dei molti Ciò che esclude ogni altra causa, ma è esso stesso senza causa Ciò che non ha riferimento alla causa-effetto Ciò che è indipendente, è Brahman, e tu sei quello Contempla ciò dentro di te Ciò che è libero, dalle modificazioni mentali Che è infinito, inalterabile Di là dalle qualità di quiete o moto Ciò che è supremo ed eterno Felicità che non svanisce Ciò che è incontaminato È Brahman, e tu sei quello Contempla ciò dentro di te Quella realtà una Che per illusione appare modificata nel nome, forma e qualità Come loro, con tutte le sue modificazioni È Brahman, e tu sei quello Contempla ciò dentro di te Ciò di là dal quale nulla più esiste Ciò che è supremamente superiore a tutto Ciò che è l'interiore, l'essenza di unità Ciò che è verità, coscienza e beatitudine senza fine Ciò che è immutabile È Brahman, e tu sei quello Contempla ciò dentro di te Contempla ciò che è verità